ciao a tutti oggi andremo a vedere come il nastro tx sport può aiutare nel effetto drenante nella caviglia dopo un evento traumatico che potrebbe essere una semplice distorsione nella prima fase andremo ad applicare il primo nastro circa 5 cm sopra il malleolo per ancorarci e poi scenderemo con delle listarelle che taglieremo in cinque punti per i cinque metatarsi ora andiamo ad applicare il nastro togliamo la prima parte che sarà la nostra ancora la posizioniamo sopra il malleolo con una leggera frizione andiamo senza uscire dal dal nastro andiamo a fissare bene e poi andremo partendo dal basso a posizionare le striscette che abbiamo preparato partendo da sotto il malleolo dove c'è il maggior gonfiore non c'è importanza se si passa sopra anche l'osso non succede nulla e questa è la prima parte ora andiamo ad ancorare il secondo nastro e andiamo ad applicarlo sempre con la tensione del 50 60 per cento massimo grazie a tutti ottimo per oggi è tutto vi aspettiamo al prossimo alla prossima puntata